Sì, c'è qualcosa di strano qui, non sento nemmeno agile. Ma no, ti stai solamente facendo suggestionare dalle parole di mio zio. Mi sono dimenticata. No, io sto già ridendo. Ok. Scusi, noi non siamo di qui. No, 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 no. Devi avvicinarti di più però, proprio vicina. A lui? Sì. Cioè, tipo qua? Sì. Ok, quando volete. Scusi, noi non siamo di qui. Ma in quel caso non saprete dire dov'è Villa Mandragora? No, no. Nel senso che... No, vabbè, no, sta qui in nord. Ti avvicino un po' di più. Scusi, noi non siamo di qui. Lei per caso mi saprebbe dire dov'è Villa Mandragora? Porca troia, no, scusate, scusate, colpa mia, colpa mia. No, no. Colpa mia. Stavo anche venendovi bene. Questo passo. Scusate. Era bella. Scusate, che qui siamo veramente troppo vicini. Grazie. 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 Grazie a tutti.